L'Inda si è espressa a livello internazionale con un risultato appunto di valore assoluto. In una bolla, viste le normative Covid, in una bolla olandese all'interno della quale in cinque settimane verranno svolte nell'ordine, o meglio sono state svolte, campionato europeo e Coppa del Mondo e verrà disputato il campionato del mondo, all'interno di queste cinque settimane, l'Inda dopo aver collezionato già risultati prestigiosi nel campionato europeo, addirittura nelle due prove di Coppa del Mondo si è classificata quarta assoluta nella Mass Start, quindi nella gara di gruppo, prima delle italiane in gara, a soli 23 anni, alla sua prima convocazione internazionale nel mondo dei grandi. È una gioia incredibile in un territorio che poi è già avulso in parte dal discorso del patinaggio, in quanto noi siamo già l'unica società della provincia di Pesaro Urbino, ma ancora più pensare che tutto questo è avvenuto su ghiaccio, proprio perché noi da quest'anno abbiamo scelto di sostenere tutti i nostri atleti, sia quelli del settore giovanile, ma in particolare i nostri atleti di punta, sia sul percorso che fanno durante il periodo estivo, nel mondo rotellistico ricordo che l'Inda è attualmente la campionessa europea in carica a rotelle nei 100 metri sprint, e soprattutto anche nel percorso ghiaccio in quanto è un percorso prestigioso, olimpico, professionistico, di conseguenza questa sua prima convocazione in azzurro e questo risultato, quarta in Coppa del Mondo, è stata una cosa strabiliante. L'appuntamento importante è per il prossimo fine settimana? Assolutamente sì, il fine settimana che va dall'11 al 14 si disputerà appunto il campionato del mondo, e one shot, il campionato del mondo si differisce appunto dalla Coppa del Mondo da cosa? La Coppa del Mondo è una gara a tappe, è un po' come il Giro d'Italia, il Tour de France, anche perché la somma dei punteggi decreta alla fine la classifica generale. Il campionato del mondo è una gara one shot, cioè chi vince vince il mondiale, quindi l'Inda si presenta con delle credenziali importantissime. E noi stiamo lavorando proprio perché, perché lei possa affinare ulteriormente in queste due settimane tutte le armi per figurare e portare in alto i colori del nostro paese. L'emozione da parte della vostra società? Guarda, l'emozione di pochi, è scesa anche qualche lacrimuccia, perché noi siamo nati, siamo un po' un po' un embrione, ripeto, il pattinaggio addirittura a Pesano non c'ha neanche l'impiantistica per potersi allenare, quindi noi siamo una realtà regionale. Quindi immaginiamoci in un territorio che non presenta nessuna vocazione per gli sport invernali e noi abbiamo un atleta che ha sfiorato il podio in Coppa del Mondo Assoluta. Tutto questo è reso possibile dalla collaborazione, dalle partnership. Io non finirò mai di ringraziare i nostri sostenitori. In cima alla lista Comis, che ci sta sostenendo da anni, e da quest'anno anche una realtà locale che è Vanilla & Cola Gelateria, proprio perché comunque riusciamo ad essere, ad avere una impronta di grandi aziende che ci sostengono e di piccole realtà del territorio, senza dimenticare poi la consulenza preziosissima della Incoaching di Senigallia. Quindi grazie a tutti i nostri investitori e collaboratori. Grazie di cuore. Grazie a tutti i nostri investitori.